wing liner ha un applicatore in feltro con una punta slanted angolata la punta taglio dalla forma ergonomica è perfetta per disegnare in un unico gesto una linea precisa lungo la rimacigliare e una coda perfetta nell'angolo esterno dell'occhio come prima cosa disegno la coda partendo dall'esterno verso l'interno dell'occhio successivamente vado dal condotto lacrimale verso il centro la punta angolata rende particolarmente semplice disegnare la coda dell'eyeliner dono alle ciglia un volume smisurato grazie a vampa mascara